Pallone per Haynes, trova il gioco a due con Huggins, che schiacciata, da dove ha staccato Huggins? Una volta non punisce l'Umana Rayer, va a stone, veloce al contropiede, coast to coast e sotto mano, incredibile, tutto tagliaccio ai piedi. Spramos per Villoi, tiro aperto a tre punti, non se lo prende, preferisce andare sotto da Peric. Il gioco dei ritmi della squadra, anzi ha imposto i suoi ritmi alla squadra, e arriva la schiacciata di Melvin Ejim, a tap in. Noco deve provare a battere sulla velocità, invece li apre per Villoi, dietro la schiena, contatto contorno non fischiato, Villoi. Ancora Jones e Reis che fanno a sportellate, Reis recupera un pallone da Jeff Piggiano che inchioda la schiacciata, è l'apoteosi per il tagliaccio. Grazie a tutti.